Strade percorribili e disagi limitati a qualche divieto di sosta per le scene clou del film di Peter Greenaway. Sì, perché proprio in queste ore la Torre Guinigi, uno dei monumenti simbolo di Lucca, sta ospitando il cast della pellicola con il regista impegnato in prima persona tra gli iconici lecci. Nel corso delle riprese, come spesso accade, è stato impegnato anche un drone che ha più volte sorvolato il celebre giardino pensile, ingaggiando a tratti una sorta di gara con i gabbiani cittadini, incuriositi al tempo stesso spaventati dal volatile meccanico. Questa volta non è stato necessario far ricorso a chiusure transenne e l'unico segno evidente della presenza della troupe erano le due file di mezzi parcheggiati a bordo strada nei pressi della torre. Nessun disagio quindi per i pedoni, qualche divieto di sosta in più per gli automobilisti, ma probabilmente i più delusi restano i turisti che inconsapevoli delle esigenze hollywoodiane si sono presentati oggi in via Sant'Andrea per provare a salire sulla torre. La Torre Guinigi sarà protagonista di questo film. Ci dispiace che per due giorni sia interdetta al pubblico, ma queste erano le esigenze della produzione. Sarà molto iconico vedere il simbolo di Lucca in questa pellicola che verrà proiettata in tutto il mondo. La cittadinanza sta rispondendo molto bene, c'è qualche disagio, ma alla fine queste maestranze, più di 200 persone che stanno lavorando da già più di una settimana a questo film, si stanno comportando molto bene e i cittadini alla fine gradiscono. E intanto la città si prepara per il prossimo CHAC. Un altro set molto importante e molto suggestivo, Via del Fosso, con riprese notturne giovedì e venerdì. Quindi anche lì si tratterà di un notevole sforzo organizzativo che il Comune sta seguendo in tutto e per tutto, affiancando gli ispettori di produzione.